Siamo in piena lavorazione qui all'interno della Fortezza Medicea di Arezzo, ovviamente insomma per il suo intero recupero. Intanto l'emozione è davvero grande perché insomma in questo momento ci troviamo proprio fisicamente sopra al pavimento di una domus che da un punto di vista della sua datazione risale alla fine del primo secolo avanti Cristo. Ecco secondo gli esperti che in questo momento stanno lavorando appunto al recupero di questo pavimento praticamente è il momento insomma più bello, più grande splendore che ha vissuto la città di Arezzo. Indubbiamente la Fortezza Medicea insomma racchiude davvero in tutte le sue stratificazioni perché dobbiamo dire così la storia della nostra città e quindi è davvero emozionante vederla pian piano riaffiorare. I primi ritrovamenti sono del febbraio scorso e la scommessa vinta dagli esperti che stanno lavorando in questa zona della fortezza sta proprio nell'aver capito quanto poteva essere esteso questo tappeto musivo in alcune parti perfettamente conservato. Nel corso degli scavi sono venuti alla luce anche i resti della sepoltura di un guerriero, forse di un cavaliere medievale. Queste sono le ultime immagini che la nostra telecamera ha potuto carpire. Adesso la Domus sarà coperta da un tessuto non tessuto, una sorta di protezione perché i lavori per il momento subiranno uno stop per essere poi ripresi tra due mesi circa. Abbiamo dunque davvero toccato la storia con mano, la storia di questa città, sicuramente il suo punto più antico che per il momento è tornato alla luce. Quindi davvero ancora una volta una grande emozione per aver scoperto le immagini di questa Domus risalente, come dicevamo, alla fine del primo secolo a.C., il momento sicuramente di maggior splendore di questa città. I lavori ovviamente all'interno della fortezza Medicea continuano, però vorremmo chiudere questa nostra piccola incursione con purtroppo un esempio davvero di inciviltà che ci fa male al cuore perché all'interno della fortezza abbiamo visto quali tesori sono nascosti. Purtroppo l'insegnamento dei nostri avi del passato, le bellezze che ci sono state regalate da loro non sono apprezzate abbastanza. Per lo meno da coloro che lasciano queste scritte proprio alle mura esterne della fortezza Medicea di Arezzo e che non capiscono davvero quello che è il suo valore attuale. Un'inciviltà, come dicevamo, che ci fa davvero male dal punto di vista della loro cancellazione. Il Comune di Arezzo sta ovviamente provvedendo, però insomma cerchiamo di volere un po' più bene a questa città.